Ciao famiglia Nerazzurra, bentornati sul nostro canale di notizie sull'Inter. Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al nostro canale e di lasciare quel mi piace per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità della nostra amata Inter. Passiamo ora alla notizia che sta lasciando i fan in subuglio. Grandi emozioni per l'attacco dell'Inter e sembra che all'orizzonte luccichi un nome molto particolare. Secondo la prestigiosa Gazzetta dello Sport, Jonathan David potrebbe essere la grande aggiunta alla nostra squadra. Questo è il sogno che ha riscaldato i nostri cuori nerazzurri per tre lunghi anni e ora la possibilità di vederlo in campo con la nostra maglia è più vicina che mai. Piero Ausilio, il nostro direttore sportivo, ha seguito da vicino lo sviluppo di questo talentuoso giocatore ed è giunto il momento di puntare tutte le chips. Sappiamo che il Lille chiede 50 milioni per David, ma speriamo che questa cifra possa scendere a 40 milioni ad agosto. E, credimi, è un investimento che varrà ogni centesimo. Non lasciamoci scappare l'occasione, gente! È ora di mostrare al mondo la forza del nostro club. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi sfida e portare Jonathan David nel nostro team. Ed ecco una strategia audace, risparmieremo sul nostro investimento in trubine e concentreremo tutte le nostre risorse per garantire che questo fenomeno arrivi sul nostro attacco. Tuttavia, come per tutte le grandi notizie, c'è chi solleva dubbi. Il giornalista di calciomercato Fabrizio Romano ha dichiarato che, al momento, non ci sono trattative in corso tra l'Inter e David. Ma non abbattiamoci! Dimostriamo a lui e ai tutti gli altri che la volontà e la passione dei tifosi nerazzurri possono cambiare tutto. Quindi, famiglia interista, vi esorto a lasciare i vostri commenti qui sotto su questa entusiasmante notizia. Cosa ne pensi della possibilità di vedere Jonathan David brillare in campo con la maglia dell'Inter? Mostriamo a tutti la forza dei nostri fan e la nostra fede in questo sogno! Non dimenticare di iscriverti al canale, attivare le notifiche e lasciare il mi piace per non perdere nessuna informazione qui, insieme siamo più forti! Forza Inter!